Siamo stati un po' i precursori, era partita una festa del CSI in piazza, poi abbiamo fatto delle manifestazioni con la diocesi come sportenote, poi nei vari comuni che organizzano insieme a noi la giornata dello sport. Dobbiamo andare a tutta velocità e puntare sui valori dello sport, valori di amicizia, di fraternità, di convivenza, valori anche di obiettivi, di risultati, di educazione. Noi sbandieratori ci alleniamo tutto l'anno in preparazione della torta ma non solo, abbiamo varie uscite durante l'anno, più in più l'estate, abbiamo anche la scuola dei piccoli, anche loro si allenano molto. Ginassi Cariboli, Lavagna, società storica. Storica dal 1970, quest'anno con un impegno in più in quanto promossi nel campionato di serie B e ripaga del lavoro fatto in tutti questi anni. Abbiamo deciso di non fare la B per far crescere le giovani perché il nostro obiettivo è di avere sempre una squadra fatta da ragazze del nostro vivaio e di conseguenza quest'anno serie C Femminile Liguria. Come sta andando la società? Bene, bene, siamo tanti, ormai siamo già tre palestre e quindi niente, si spera di continuare, di aumentare i numeri per allenarsi sempre meglio.